Il proprietario di un castello irlandese trasformato in hotel per difficoltà finanziarie deve venderlo a un uomo d'affari che vuole smantellarlo per ricostruirlo pezzo pezzo in un parco stile Disneyland in America. Ma i fantasmi che abitano il maniero non sono affatto d'accordo e si mettono a rendere la vita difficile a tutti i malcapitati ospiti.